Io lo dico con nettezza, Colonia è un pezzo di una guerra sul corpo delle donne e quella guerra sul corpo delle donne si conduce nelle case, nelle strade, nelle città, si conduce sistematicamente e mi spiace, lo dico con il grande affetto che ho per gli uomini, non è vero che ci sono uomini senza responsabilità che possono scagliare la prima pietra e uomini di altri paesi che invece hanno tutte le responsabilità, c'è un tema che si chiama violenza sul corpo delle donne che continua ad essere un tratto di dominio e di incapacità di riconoscimento del rispetto e la religione, perché così dico anche la terza parte è faticosa di questo elemento e la religione è un pezzo di questa perenne idea che le donne devono essere sottomesse e allora sì, lo dico, c'è un problema di secolarizzazione della nostra religione e delle altre religioni e chiunque mi dica che la sciaria democrazia troverà nelle donne la principale opposizione perché quando la religione si fa stable per le donne iniziano le sofferenze mi spiace per gli uomini ma è proprio così perché siamo noi che difendiamo e determiniamo il cambiamento e il rispetto delle persone grazie 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 grazie